Hashtag noi amiamo gli animali. Perché i gatti amano le scatole? Se il miglior regalo per una donna è un diamante, il miglior regalo per un gatto è sicuramente una scatola. Anche il web è pieno di foto e video di gatti che cercano in ogni modo di entrare in una scatola. Non importa quanto piccola essa sia, riusciranno ad entrarci. Ma perché Micio ha questa grande passione? In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, scopriremo insieme come mai i gatti amano le scatole. Chiunque abbia in casa un gatto sa che non importa quanto la cuccia sia grande e confortevole, Micio sceglierà sempre un recipiente che sia una scatola o la cesta della biancheria. Una ricerca condotta nel 2014, che ha preso in esame 19 felini di cui solo 10 avevano a disposizione una scatola, ha portato alla luce che l'istinto dei gatti di infilarsi in posti come ceste e scatole è un vero e proprio metodo antistress. I risultati della ricerca hanno infatti dimostrato empiricamente che i gatti ai quali veniva fornita una scatola avevano un livello di stress inferiore rispetto a quelli senza scatola, almeno nelle prime settimane dell'esperimento. Successivamente il livello di stress tendeva a diventare uguale per tutti i gatti. I gatti infatti sono animali abitudinari che soffrono molto lo stress, soprattutto di fronte a cambiamenti ed eventi inaspettati e questo ha un impatto negativo sia a livello psicologico sia a livello fisico. Un micio stressato infatti tende ad ammalarsi di più a causa degli alti livelli di cortisolo che rendono il felino maggiormente soggetto a malattie. Quindi il gatto usa le scatole come un rifugio per nascondersi e isolarsi e proteggersi dallo stress. Da questi risultati si è giunti alla conclusione che fornire al gatto una scatola o più in generale un luogo tranquillo e appartato in cui rifugiarsi quando sente la necessità di nascondersi è un modo per rendere più semplice l'inserimento del micio in un nuovo ambiente. Si tratta di un consiglio molto utile per chi sta pensando di portare un nuovo gatto in casa. Per questo video è proprio tutto, se volete saperne di più su come le scatole aiutano i gatti contro lo stress cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E il vostro gatto ha una scatola tutta per sé? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe. Ciao ciao!